Il nostro lavoro si concentrava sul servizio di sapere, esperienza e soluzioni di dettagli per creare moleculi complessi. Possiamo proporzionare l'API per le società generiche e per gli innovatori, quindi la piccola molecula potrebbe essere un'API già commerciale o una nuova entità chimica. Qui, a nostra facoltà in Concorezzo, possiamo capire tutti i tipi di reagenti di azardo, l'hydrogenazione sotto la pressione, l'azionalismo, l'API colori e florescenti, e per ora, le purificazioni cromatografiche a scala industriale. Quali sono le molte classi di molte moleculi complessi e i loro intermediati? Ci sono diversi classi di molte moleculi complessi e i loro intermediati, o alcuni classi di lipidi o i compoundi, per essere isolati per una matrice naturale, che possono essere purificati con un risultato eccellente usando la cromatografia di medium-pressure, in modo normale o in modo normale. Con BioTouch Flesch 400, potremo fare questa prurificazione di purificazione a scala di kg. Molte ruote possono essere realizzate usando la stessa colonna e anche usando solvents ricicliati. Questo è molto importante per l'impacto economico e ambientale della purificazione. Un processo scalabile semplicemente significa che potresti fare la purificazione nel laboratorio a scala di gramma, trovando i migliori parametri, che ti permettono di isolare il composto desiderato con la purificazione e l'impacto. Poi potresti ottenere esattamente i risultati a scala di kg, usando la stazione e l'eluenti, ma considerando la nuova dimensione della scala di scala industriale. La scala di scala di scala di cromatografia è sempre la fase di R&D. Qui possiamo maximizzare l'impacto, aumentare la velocità e lavorare sull'efficienza. Ciò che vogliamo proporre, è una piattaforma flexible, time- e cost-efficiente.